Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 per traffico intenso in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sulla 11 ancora per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, sulla A12 per un veicolo in avaria 2 km di coda tra il Bivio per Viareggio e Versilia in direzione Genova. Sulla FIPILI per lavori 4 km di coda tra Ponte dell'Este e Montopoli in direzione Firenze. Per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sulla corda autostradale Siena Firenze rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badese e Siena Nord per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.